Il consigliere regionale Donato Di Matteo ha voluto tracciare il bilancio all'indomani del passaggio dell'edizione 101 del Giro d'Italia che ha coinvolto l'Abruzzo per ben tre giorni dall'arrivo in quota di Campo Imperatore alla partenza di Penne in mezzo la sosta della Caravana Rosa a Montesilvano. Un bilancio estremamente positivo, tre giorni di sport, di allegria e anche di valorizzazione soprattutto del nostro territorio delle bellezze storiche architettoniche della nostra terra e della grande qualità del popolo abruzzese che si è unito per sostenere questa bellissima iniziativa. Io mi auguro che questo dato concreto che la gente ha toccato per mano in una fase in cui si fanno molte chiacchiere e pochi fatti questo è un fatto importante, a questo fatto importante che ha visto coinvolto amministratori, cittadini si deve abbinare un'ulteriore fase di sostegno all'entroterra, di sostegno alle politiche dello sviluppo del territorio al rilancio delle aree naturalistiche della regione Abruzzo.